in video Pietro Di Lorenzo, ciao Pietro ciao, buongiorno, come stai? benissimo, grazie sono un po' inebriato dalle vette lassù ma comunque è l'anno buono d'altra parte se non vincevate lo scudetto 800 milioni di debito come si ripianavano quindi diciamo una vincita forzata beh c'è chi vince lo scudetto e chi vende osimen, ci sono tanti modi per ripianare i bilanci siamo bene allora senti, entriamo subito nel vivo, che oggi siamo in tanti voglio sapere da te Pietro com'è la situazione relativa alle posizioni nette e corte, voglio sapere se sulle banche è stato aperto qualche altro short, mi pare di ricordare che ci fosse uno short aperto su Popolare Milano vorrei capire com'è andata e a te, prego Davide, se condividi lo schermo c'è una situazione interessantissima c'è un attacco speculativo violento sul sul titolo Cyperm ne abbiamo parlato anche martedì ma stava montando adesso guarda che è successo in corso d'opera il titolo è entrato lo condividi tu lo schermo se riesci tu per favore sì, certo è una situazione abbastanza inconsueta ci riporto un po' indietro ogni mesi dove c'era una grande aggressione delle mani forti e adesso abbiamo rivisto quello che non vedevamo da un po' cioè un'aggressione brutale sul titolo Cyperm non so se sto condividendo sto arrivando io ah, perfetto volevo mostrarti quanto lo short fosse montato in maniera iperaggressiva come dicevo martedì scorso se ti ricordi c'era la notizia che in realtà era stata molto montata di quegli incidenti in Australia che però secondo me nascondeva altre dinamiche come dicevo martedì è stata la scusa per schiacciare l'acceleratore sullo short di Cyperm e quello che è successo è questo cioè incredibilmente si sono accodati un po' come gli squali quando sentono il sangue si sono accodati ai short che erano già presenti altri short molto massivi tra l'altro di player non banali cioè parliamo di Citadel parliamo di allora se vuoi mostrare diciamo i titoli devi farlo tu perché sei tu che hai la pagina qua si può vedere il grafico si può prestare che si avvicini a un forte supporto no io sto mostrando le penecine adesso vedi devi condividere allora condividi aspetta di solito mi condividi tu partecipa alza la mano condividi schermo ce l'abbiamo fatto eccoci qua perdonatemi allora dicevo in sintesi guardate che è successo Cypem sei posizioni short col 5,61% del capitale messo in vendita e l'hype dello short quindi siamo passati da un 2,52 di dicembre a sostanzialmente tre volte quello che era stato shortato e come dicevo proprio dopo la notizia di martedì lo short è scoppiato all'insù evidentemente gli istituzionali vedono qualcosa che noi non riusciamo a percepire ma in realtà dal grafico la peculiarità per chi magari ve lo mostro è che il titolo nonostante la discesa di martedì scorso tipicamente quando c'è una seduta con di bassi brutali quasi in doppia cifra come martedì tendi non un po' a riassorbirlo almeno in parte invece guarda cosa è successo è ribasso è continuo e la peculiarità è che ci sono tutte chiusure sui minimi quindi anche quando il mercato è forte sai per chiudere sui minimi è molto importante lo dico spesso il prezzo di chiusura perché è un po' anche una sintesi di quello che fanno tipicamente i operatori che portano in multiday e non in multiday che quindi hanno una logica più speculativa quindi altissima tensione sul titolo io assolutamente eviterei di andare long a caccia di un rimbalzo pratica che molti trader alle prime armi si esercitano in questo tipo di cosa fin quando non vedo uno short covering quindi quantomeno bisogna vedere che qualcuno inizia timidamente a ricoprirsi ma opinione mia c'è qualcosa ma senti scusami Saipem riporterà il 28 28 pensi che questa sia come posso dire in qualche modo una preparazione di qualcuno che pensa che magari dai conti emergerà che nonostante l'ultimo momento di capitare magari non c'è ancora il pieno recupero come era previsto cioè non riesco a vedere un'altra cosa se non un insider trading che però non voglio valutare attualmente cioè non riesco a capire altrimenti la razio perché questo è uno short importante è brutale è brutale è giocata a scatte scoperte nel senso che non è che l'abbiamo visto solo noi della community di market briefing perché sai certi movimenti soppiato ci vuole un occhio un po' più allenato e quant'altro perché vedi qualcosina che si muove anche nel buco invece qua è come se apertamente c'è una scommessa ribassista quindi mi sembra così molto aperta come scommessa molto a carte scoperte pensate qualcosa di qualche notizia che forse noi non abbiamo ben elaborato di solito in questi casi puoi ritornare un attimo al grafico si vede perfettamente che il titolo testa un supporto che aveva già toccato in passato lo vediamo quella shadow recente diciamo datata probabilmente ottobre no? tra ottobre e inizio ecco vorrei dire una cosa così a vantaggio della community quando un titolo ritorna su un livello di supporto di questo tipo che sicuramente sente ma lo fa con tanto short di questo tipo montando delle posizioni come quelle che si vedono anche se da una parte verrebbe la tentazione di comprare io credo che sia bene diventare improvvisamente molto prudenti troppi denari spostati in una presa di posizione molto forte ora io non so se è facile in qualche modo assecondare la posizione dei grossi operatori che quindi sono andati short ma certamente come dire è da pensarci bene poi ognuno ovviamente ragiona con la sua testa ma è da essere molto prudenti nell'andare long chiediamo alla community di mettere un 1 nella chat se come dire ha chiaro il meccanismo di un titolo che va sul supporto però non più come una volta attenzione adesso con le antenne dritte a 360 gradi a monitorare tutti gli elementi 2 se invece non siete d'accordo e secondo voi lì reagirà senz'altro bene allora riguarda il tema Davide cioè non è non entrare long ma entrare long aspettando quantomeno uno short covering cioè tu devi certo quindi dopo un chiaro pattern di inversione evidentemente qualcosa si qualcosa si deve vedere perché se tu vai cioè non escludo ti ricorda che nel proseguo della settimana ci si aumenti anche lo short non lo escluderei perché mi sembra talmente sgamata no questa azione di bassista violenta che non escludo che poi altri operatori che magari sono sottosoglie non vogliono farsi vedere a sto punto come dire auspicare un processo di autoalimentazione ribassista nel senso che dicono ah se tutti vendono quasi quasi vendiamo pure noi e poi per autoavverazione continuano ad andare giù quindi non non si vede non si vede molto spesso un movimento così così deciso io l'avevo detto martedì la la notizia della cosa in australia dell'incendio in australia non mi sembrava una notizia da meno dieci assolutamente infatti poi anche il comunicato società ha un po' ridimensionale e quant'altro ho l'impressione che ci sia qualcosa sotto e quindi eviterei insomma di garibaldinamente andarmi a provare a prendere un minimo magari aspettiamo qualche seduta vediamo se sul book cambia la pressione vediamo se sulle pnc qualcosa cambia e lì effettivamente lo short covering potrebbe innescare un rimbalzo veloce cioè in sintesi meglio entrare con un giorno di ritardo menzare nella direzione giusta piuttosto che entrare con anticipo e c'è il rischio che poi ti prendi un treno in faccia allora ti faccio un'ultima domanda e cioè ti chiedo se noi abbiamo diciamo così altre posizioni eventualmente come posso dire così così ecco se c'è qualcos'altro che è montato in questi giorni e ti domando anche magari lo sai tu ho cercato ma non trovo notizie particolari su Interpump dimmi tu è aperto proprio in questo momento è aperto proprio in questo secondo in cui parlavi 43 81 era andato in sospensione ma ci sono delle notizie? la news sai non sono riuscita a trovarla però sicuramente non è la news perché è aperto con ritardo dove ha fatto la sospensione essere ripartita quindi sicuramente è notiziata da Reuters e quant'altro non l'ho vista però uscirà in breve ma al 100% è notiziata chiediamo anche agli amici della community se qualcuno ha trovato qualche motivazione per Interpump andiamo a cercarla bene ci sono altri titoli su cui è successo qualcosa? sì guarda oggi secondo me giornata importantissima perché ora di pranzo c'è intesa e chiaramente l'aspettiamo poi c'è il tema MPS il mercato sta scommettendo sul dividendo se ci pensi era mi sembra 16 anni che MPS non staccava un dividendo sarebbe qualcosa che dà una certa discontinuità il mercato si è posizionato in maniera molto forte su questo scenario e vedremo poi abbiamo i titoli di risparmio gestito che secondo me sono il vero tema dell'anno perché vedi lì è il movimento in sordina guarda voi parlate di Azimut ma anche Mediolanum stanno salendo proprio da accumulo cioè non strapponi da prime pagine dei giornali ma momenti interessanti di accumulo e oggi abbiamo i numeri di Fineco quindi settimana importante perché ci sono tanti risultati rispetto invece alla tua domanda c'è qualche altra tensione sui titoli italiani ma riguarda titoli un po' più sottili in particolare Eurogroup Lamination è basato nella quarta posizione con un short abbastanza deciso e poi abbiamo la solita Elen che è sempre un po' al centro di interesse del mercato e Denora che però poi ho fatto un po' di ricerca un flottante molto basso quindi è un titolo un po' particolare però insomma settimana importante il breakout di ieri se devo dire non mi ha convinto del tutto perché se guardi i volumi di ieri sono impressionanti cioè Unicredit praticamente ha spadoneggiato ha fatto quasi metà dei volumi di tutti i Fuzzimib quindi non è stato un movimento corale non è stato il breakout condiviso e quant'altro non mi ha convinto del tutto quindi per dire che siamo usciti dal trading range e ci aspetta un nuovo impulso direzionale indugerei un attimo i breakout sono quelli in cui almeno metà dei titoli risposto a tutta alta capitalizzazione contribuiscono ieri in realtà è stato un esplode Unicredit oggi per carità potrebbe essere l'esplode intesa ma rimarrei prudente l'altro giorno c'è stato Ferrari ricordo il dato che Ferrari è diventato il titolo la più alta capitalizzazione in Italia ha superato Eni e questo è anche una cosa epocale fino a poco tempo fa se ci pensi a storia di Ferrari abbastanza recenti in borsa chi si sarebbe immaginato come Ferrari come titolo più capitalizzato del Fuzzinib è successo e questo vuol dire che quando sei sul terreno giusto devi rimanerci il più possibile facile da dire difficile da fare benissimo benissimo allora intanto la community ci aiuta ricordandoci che Equitasim ha tagliato le stime il target price per Interpump e questo la dice lunga cioè i titoli italiani non così liquidi evidentemente su un taglio di stime fanno non credo indietro molto molto secco bene allora direi grazie mille un abbraccio un saluto a tutti grazie allora togliamo la condivisione